Sì, 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 con avanzata, come hai fatto un'epoca? Eh, cos'è più a me? L'hai registrato, Fer? Ovviamente. Eh, sì, cazzo. Esatto. C'è chi un po' di meno, chi un po' di più, ma comunque è sempre di altro livello. Sì, ma è impossibile che siamo tutti allo stesso livello. Ho detto, c'è chi è più bravo e chi è meno bravo, ma comunque è sempre di altro livello. Sì, è vero, cioè, i titan sicuramente sempre sono altri, a cui non è che scena i barbacchi infomiliate cose. Ovviamente. È un po' di meno. E' 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 una dimostrazione che è Paul John, eh. Non è che una cosa che dico io. Cioè, è proprio c'è la dimostrazione. Però, la cosa buona di noi altri che siamo per noi i templi e i bletti, e poi ci è una situazione che ha già un'attività di un'attività di un'attività di un'atta. Non lo so, non lo so. Non mi ha lasciato, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. E questo è una situazione che ha già fatto. Ma cosa... Cazzo, dai! Sì, dai, dai! Ma conquistate! Guarda, guarda, guarda questo cazzo! Io ho un colpo esplosivo! Vittoria! Bene, io vado a cucinare la mia bella braciolona di maiale, così poi mi sbrigo a ritorna online. Lascio comunque il party via sceso. Scendendo tra poco, regà. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Avreste dovuto ritirare! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Non c'è tanto che servono anche il roso ti appolando Ah, merda, addirittura ho ucciso Ray col pacchetto mentale. Troppo legno. Meglio se bene andate. Sì. Ok, un attimo ti rispondo un po' male perché sto giocando Sì, danno io faccio questa, poi vado a schiena Vengo a prenderti Inutile nascondersi Ok, un attimo C'è un coglione che faceva lo spavaldo con gli hook, l'ho ammazzato tre volte e ha quittato Vengo a prenderti Vengo a prenderti Per uno che si va a prenderci da un'idea, tre mazzi e forte a Vengo a spavarare il bambino Sono da c***o Vengo a prenderci da un'idea Vengo a prenderci da un'idea Adesso? Adesso? io però prima gliela faccio il porto lì ci ho provato più o meno quelli dell'estate si è più buona la pesca però in generale a me piace il limone tipo della lipton quanto è buono quello il limone quello della lipton a me piace di più ah si è buono pure quello ma a me piace sai quale? quello nuovo quello più sti che marca è? è nuovo ed è un annetto e mezzo che è in commercio anche in italia è della